ben tornati amici sul mio canale o se siete nuovi benvenuti se non mi conoscete ciao io sono elisa true crime e come ogni lunedì anche oggi sono qui per raccontarvi una storia di true crime lo so lo so l'intro è diverso ma sono quasi quattro anni che ripeto lo stesso identico intro in ogni video ho detto così tante volte la parola scioccata che ha perso significato sono scioccata lo abbiamo capito basta cambiamo amici per il caso di oggi devo avvisarvi di tante cose sedetevi comodi per un minuto perché prima di iniziare oggi non ci sarà lo sponsor ma ci saranno cinque minuti di disclaimer questo video sarà molto difficile da guardare ve lo anticipavo la scorsa settimana anche su instagram la donna di cui parleremo in questo video è un mostro a confronto joanne dennehy di cui abbiamo parlato la scorsa settimana vi sembrerà una piccola principessa fidatevi se satana avesse un volto sarebbe lei io non mi sono mai arrabbiata tanto preparando un video le cose che questa donna ha fatto al suo stesso figlio sono terrificanti terrificanti questo è un video in cui non lo dico solo a voi di allenare l'empatia lo dico in primis a me stessa perché la tentazione di insultarla e di augurarle le peggio cose nel corso del video sarà molto forte ma ci impegneremo tutti per non farlo mi raccomando cerchiamo anche di mantenere la sezione commenti un luogo civile e scusate se mi sono dilungata ma se deciderete di continuare questo video insomma di guardare questo video capirete il perché parleremo di violenze di torture ai danni di un bambino di un ragazzino innocente quindi se deciderete di non guardarlo io lo capisco come sempre prendetevi cura di voi e ci rivediamo al prossimo video devo fare anche un altro piccolo disclaimer dunque so che molti di voi dopo aver guardato i miei video vanno a fare delle altre ricerche per approfondire ulteriormente il caso e quindi devo avvertirvi che in questa storia c'è un punto in cui la donna di cui parleremo vomita in tribunale nel mezzo del suo processo e so che questa cosa può essere molto disturbante per alcuni di voi me compresa quindi vi dico io non inserirò quella parte nel video cioè non non vi farò vedere il video di quella scena ovviamente ma voglio comunque dirvelo prima nel caso in cui appunto voi andaste a cercarvi dei video del processo ecco sappiate che potreste imbattervi in questa cosa poco piacevole e adesso amici possiamo cominciare con il caso di oggi oggi vi parlo della raccapricciante e orribile storia di Shanda van der Ark a horrific accusation of child abuse out of Muskegon County I've been at this job for over 20 years and you know the things that walk through this door on a day in a day out basis are horrific and traumatic but I can safely say that within my career this is probably one of the more mystic and tragic events that I've ever seen tua madre ti ha usato è intelligente è più intelligente di tutti noi qui è più intelligente di me di te più intelligente di qualsiasi detective qui è più intelligente del capo della polizia Shanda van der Ark nasce in realtà Shanda Ramsey van der Ark sarebbe il cognome del suo secondo marito quindi Shanda Ramsey nasce ad Huntsville in Alabama il 15 settembre del 79 la sua infanzia è sicuramente disfunzionale anzi dire che la sua infanzia sia stata disfunzionale è un eufemismo i genitori di Shanda divorziano quando lei è molto piccola e lei insieme a sua sorella Paige che ha due anni in più di lei crescono insieme a sua madre Mildred che a quanto pare quando Shanda ha solamente sei anni cerca di togliere la vita a sua nonna cioè fatemi riformulare quando Shanda ha solo sei anni sua madre Mildred tenta di uccidere la nonna di Shanda quindi tenta di uccidere la sua stessa madre assumendo un sicario e tutto questo per mettere le mani su un'eredità di ben due milioni di dollari fortunatamente per la nonna Mildred viene beccata e arrestata ma sfortunatamente per Shanda e per sua sorella Paige per questo motivo loro sono costrette ad andare in orfanotrofio non ci sono molte informazioni su questo infatti non capisco perché non siano state affidate ai nonni per esempio però purtroppo proprio non si sa a questo punto Shanda ha sei anni e Paige ne ha nove e passano in orfanotrofio come vi dicevo due anni dopodiché la loro madre Mildred esce di prigione e le due bambine tornano a casa con lei e ricominciano a vivere una vita presumibilmente serena fino a quando però la madre non conosce un uomo con cui si sposa e che diventa quindi il patrigno dei suoi figli compresa Shanda di nuovo la parte dell'infanzia di Shanda è piena di lacune quindi non posso darvi troppi dettagli ma sappiamo per certo che la madre Mildred muore prematuramente quando Shanda è soltanto un adolescente e da quel momento in poi pare che il suo patrigno abbia iniziato a farle violenza e lo sappiamo perché è Paige stessa la sorella di Shanda a raccontarlo molti anni dopo quindi Shanda viene molestata dal patrigno anzi Paige dice che i due avessero una relazione sessuale e che il patrigno avesse addirittura fatto prescrivere a Shanda la pillola per poterci avere rapporti senza nessuna preoccupazione oltre questo c'è anche un piccolo articolo che ho trovato online in cui c'è scritto che quest'uomo il patrigno sia stato anche arrestato per aver molestato un ragazzino di 14 anni con delle disabilità sappiamo anche che Paige rimane incinta molto giovane non sappiamo l'età esatta ma sappiamo che era ancora un adolescente e come racconta lei stessa Shanda quando viene a conoscenza della notizia si arrabbia moltissimo si arrabbia perché secondo quello che racconta Paige primo non accetta il fatto che Paige sia incinta e nubile e inoltre è gelosa del fatto che Paige sia rimasta incinta prima di lei e di conseguenza cosa fa Shanda? la colpisce violentemente alla pancia con l'intenzione di farle perdere il bambino obiettivo che purtroppo raggiunge perché Paige infatti lo perde e non finisce qui perché quando Paige rimane incinta una seconda volta questa volta però è sposata Shanda tenta nuovamente di aggredirla questa volta però il marito di Paige la difende quindi Shanda non riesce nel suo intento comunque Paige dal 2000 in poi dice di non aver mai più rivolto la parola a sua sorella e quando le chiedono di descriverla lei risponde che Shanda secondo lei è una persona viziata controllante e probabilmente una sociopatica l'ha detto lei non io quando Shanda ha circa 20 anni conosce un uomo di nome Eric Ferguson con cui si sposa e da cui ha quattro figli il primo figlio si chiama Nolan poi abbiamo Paul Paul sarà molto importante nella storia quindi ricordatevelo successivamente abbiamo Millie e infine abbiamo lui Timothy Timothy è un bambino bellissimo a cui sono state attribuite tutta una serie di diagnosi secondo quello che dice Shanda Timothy è autistico gli è stato diagnosticato anche il disturbo da deficit dell'attenzione il disturbo da processazione sensoriale disturbi motori e del linguaggio e infine il disturbo bipolare della personalità ora ovviamente io non sono una professionista quindi non posso entrare nel merito di queste diagnosi ma stando a quello che dice il manuale diagnostico il disturbo bipolare nei bambini è estremamente raro perché di solito inizia nella fase centrale dell'adolescenza o nella prima età adulta vi leggo che cosa dice il manuale diagnostico il disturbo bipolare è raro nei bambini in passato il disturbo bipolare veniva spesso diagnosticato nei bambini piccoli di età compresa fra i 4 e gli 11 anni quando manifestavano irritabilità intensa parecchie volte al giorno ora invece si ritiene che questi bambini siano affetti da un disturbo da disregolazione dell'umore dirompente che sarebbe un disturbo dell'umore che porta il bambino ad essere quasi sempre irritabile e ad avere un comportamento fuori controllo ha spesso gravi scatti d'ira molto più intensi e lunghi di quanto meriti la situazione e durante questi scatti può distruggere oggetti o ferire fisicamente altre persone quindi sicuramente Timothy è un bambino che ha bisogno di più attenzioni rispetto agli altri o comunque ha bisogno di attenzioni specifiche ha bisogno di cure infatti deve prendere dei farmaci per alcune delle sue condizioni mediche ma purtroppo Timothy non riceve le attenzioni che merita così come a quanto pare non le ricevono neanche gli altri suoi fratelli pare infatti che sia Shanda sia il marito Eric siano genitori totalmente assenti Eric non si prende cura dei figli e Shanda idem Shanda non faceva nulla in casa nulla per i figli pare che stesse seduta sul divano tutto il tempo a scrivere libri erotici che qualche volta mostrava anche i suoi figli per qualche motivo la persona che praticamente cresceva questi bambini e insomma teneva la casa in modo decente era il figlio maggiore Nolan costretto a prendere il posto dei genitori a questo punto succede qualcosa di molto importante amici di cui però di nuovo non ci sono molte informazioni ma statemi dietro perché quelle poche che ci sono sono molto importanti anzi direi cruciali per quello che avverrà dopo Shanda e Eric divorziano e si contendono la custodia dei figli e nel 2012 Eric ottiene la custodia totale di tutti e quattro i figli e non solo Eric ottiene la custodia totale ma da un'indagine che viene svolta all'interno della famiglia emerge che Shanda è abusante con i suoi figli e di conseguenza da quel momento in poi potrà vederli solamente tre ore al mese e solo attraverso incontri supervisionati purtroppo non è mai stato reso pubblico quello che Shanda ha fatto ai suoi figli ai tempi per arrivare a questo ma per aver tolto la custodia ad una madre per darle solamente tre ore al mese di incontri supervisionati significa che qualcosa ha fatto e dico che purtroppo non è stato reso pubblico semplicemente perché magari se lo fosse stato tutto quello che è successo dopo forse si sarebbe potuto evitare abbiamo però delle dichiarazioni di alcuni insegnanti di Timothy della scuola che frequentava in quel periodo che possono farci immaginare che nella sua famiglia ci fossero degli abusi la maestra dell'ultimo anno delle elementari di Timothy dice questo di lui Timothy era un bambino dolcissimo attento e premuroso ma aveva un bisogno esagerato di attenzioni di connessioni aveva bisogno di abbracci e voleva sempre compiacere tutti e se veniva rimproverato per qualche motivo si scusava immediatamente e diventava subito esageratamente emotivo gli insegnanti avevano anche notato che spesso Timothy andava a scuola sporco e molto affamato e per tutte queste cose sospettavano che venisse trascurato dai suoi genitori e per questo avevano avvisato i servizi sociali che però non hanno mai fatto nulla a questo punto quindi Shanda non ha più la custodia dei suoi figli e anzi decide di rinunciare persino a quelle tre ore al mese di visite decide di trasferirsi in un altro stato nel Michigan ed iniziare lì una nuova vita Shanda in Michigan si iscrive all'università studia giurisprudenza in una delle migliori università dello stato e ottiene risultati sbalorditivi Shanda è estremamente intelligente e sa di esserlo pensate che all'esame di ammissione raggiunge un punteggio talmente elevato da ottenere una borsa di studio completa quindi che copre tutte le spese dei suoi studi nel 2018 si laurea con l'ode e nel 2021 passa anche l'esame di abilitazione per diventare avvocato e lo passa al primo colpo da lì in avanti Shanda inizia a lavorare come assistente giudiziario per due giudici nel tribunale di Muskegon County sempre nel Michigan e ricordatevi il nome di questo tribunale amici perché tornerà in questo periodo Shanda conosce anche un uomo di nome Adam van der Ark che sposa e da cui prende il cognome diventando ufficialmente Shanda van der Ark e con cui fa anche un nuovo figlio che chiameremo G perché il nome integrale non è stato divulgato o meglio ci hanno provato a non divulgarlo ma poi Shanda ha continuato a dirlo così tante volte che ormai è pubblico ma noi continueremo a chiamarlo G anche se per fortuna di lui non parleremo molto arriviamo così a maggio del 2021 a maggio del 2021 succede qualcosa che non sarebbe dovuto succedere ovvero Eric l'ex marito di Shanda le telefona e le chiede se Timothy il loro figlio minore potesse andare a vivere insieme a lei perché Eric non riusciva più a tenerlo dice a Shanda o perlomeno questo è quello che lei ha raccontato le dice che è troppo impegnativo ha troppi problemi e lui non riesce a stargli dietro e le dice che le opzioni erano due o andava a vivere con lei nel Michigan oppure avrebbe chiamato gli assistenti sociali e lo avrebbe mandato in orfanotrofio Shanda allora dice che non avrebbe mai permesso che il suo bambino finisse in orfanotrofio e quindi nonostante per legge lei non potesse avere la custodia di Timothy accetta e il bambino che a questo punto ha 15 anni quindi non è più un bambino va a vivere insieme a lei poco dopo anche Paul va a vivere con lei vi ricordate Paul sempre uno dei figli di Shanda e Eric ecco lui al ragionamento della maggior età può decidere di vivere dove vuole perché le regole riguardanti la custodia dei figli chiaramente non sono più applicabili sui figli maggiorenni quindi Paul quando compie 18 anni decide deliberatamente di andare a vivere in Michigan con Shanda quindi a questo punto vivono insieme Shanda, suo marito Adam il piccolo G e poi Timothy e Paul ma siccome Shanda non ha legalmente la custodia di Timothy non può mandarlo a scuola non può iscriverlo a scuola quindi è costretta a farlo studiare a casa facendogli lei homeschooling e non può portarlo dal dottore Timothy non può accedere al servizio sanitario dello stato del Michigan perché legalmente lui non si trova lì legalmente lui si trova con suo padre Eric ma Timothy ha bisogno delle sue cure ha bisogno delle sue medicine che infatti è costretto a interrompere perché chiaramente nessun dottore gli può più prescrivere i farmaci quindi una volta finiti quelli che aveva non ha più potuto prendere nulla è importante sapere che Adam il marito di Shanda ha dei problemi di salute non è specificato da nessuna parte che cos'abbia ma è importante sapere che è su una sedia a rotelle il perché sia importante lo capirete più avanti ma comunque purtroppo ad Adam nel dicembre del 2021 viene un ictus e quindi è costretto ad andare a vivere dai suoi genitori che lo accudiscono giorno e notte quindi Adam va via di casa lasciando Shanda da sola con i suoi figli con G, Paul e Timothy e questo è l'inizio della fine da quando Adam va via di casa tutto cambia il motivo non è chiaro ma gli equilibri in casa cambiano radicalmente così come le abitudini e non parlo del fatto che Paul si sia dovuto trovare un lavoro per aiutare Shanda a prendersi cura dei figli no, parlo del fatto che Shanda insieme a suo figlio Paul abbiano iniziato una serie di lunghe interminabili ed elaborate torture ai danni del povero Timothy che ci portano al 6 luglio del 2022 sono passati solo 6 mesi da quando Adam è andato via quella mattina 6 luglio del 2022 alle 6 e 37 Shanda effettua una chiamata al 911 dicendo che suo figlio Timothy non respira più e sembra essere senza vita e sembra Nella telefonata Shanda dice qualcosa di bizzarro. Dice che Timothy stava facendo uno sciopero della fame ed era un po' di tempo che non mangiava nulla e per questo era molto magro e molto debole. Quando i soccorsi e la polizia arrivano a casa di Shanda purtroppo per Timothy è troppo tardi. Timothy infatti muore all'età di soli 15 anni e ovviamente la cosa è molto strana. Gli agenti vogliono capire che cosa sia successo esattamente. Shanda è visibilmente scossa e racconta la sua versione dei fatti al poliziotto. Secondo quanto dice lei alle 5.30 di quella mattina ha sentito un forte tonfo provenire dal seminterrato che sarebbe dove si trovano i letti dei suoi figli. E quando è andata a controllare dice di aver trovato Timothy a terra perché era caduto dal suo letto a castello ma non si era fatto nulla. Cioè a quel punto lei dice che Timothy era vivo e stava bene e dice di averlo tirato su e di averlo rimesso nel suo lettino. Poi quando è tornata a controllarlo un'ora dopo intorno alle 6.30 lo aveva trovato così che non respirava più. Timothy era molto ma molto magro e per giustificare questo Shanda racconta alla gente che Timothy da quando suo marito Adam era andato via di casa quindi circa sei mesi prima aveva iniziato a fare lo sciopero della fame e lei non si era accorta che la cosa fosse così tanto grave. Quando la polizia entra in casa di Shanda però nota all'istante e lo potete notare anche voi dalle immagini quanto la casa fosse un disastro. Ci sono piatti sporchi, c'è dell'immondizia sparsa sul pavimento, ci sono vestiti ovunque ma questa non è l'unica cosa che notano. Scendendo nel semi interrato praticamente ci sono i letti dei figli, c'è il letto a castello da cui Timothy è caduto secondo Shanda e poi c'è uno stanzino, tipo uno sgabuzzino. Gli agenti notano subito questo stanzino perché a terra c'era un telo di plastica che emanava un odore nauseabondo di urina e feci. Da quello stanzino proviene una puzza intollerabile e gli agenti per un momento pensano non è che là dentro Shanda ci teneva il povero Timothy. Una delle ragioni per cui pensano questo è che quando Timothy è stato ritrovato indossava sotto ai vestiti che erano decisamente troppo grandi per lui un pannolone. E questo perché a detta di Shanda, a causa dei suoi disturbi, Timothy spesso non riusciva a controllare gli sfinteri durante la notte. Ma gli elementi sospetti e inquietanti non finiscono qui. In giro per la casa gli agenti notano una quantità esagerata di telecamere. C'erano telecamere ovunque e c'erano anche dei sensori di movimento collegati ad un allarme. Ce n'era uno per esempio proprio sulla porta di quel minuscolo sgabuzzino da cui usciva quella puzza tremenda. Nel bagno del seminterrato invece trovano una telecamera persino lì dentro, delle fascette di plastica, delle manette e una boccetta di salsa piccante. Allora per le fascette Shanda non sa dare nessuna spiegazione, non lo sa perché si trovano lì, non se lo ricorda. Per le manette spiega che semplicemente erano state comprate da Paul su Amazon per fare dei TikTok, quindi le aveva comprate così per scherzo ma non le aveva mai usate alla fine. Mentre per la boccetta di salsa piccante la sua spiegazione è la seguente. A Timo ti piacciono tantissimo i cibi piccanti, l'avrà portata lui nel bagno. Allora, dovete sapere una cosa su di me. Io amo i cibi piccanti, amo il tabasco, lo metterei ovunque. Mi porto persino la versione in miniatura nella borsetta nel caso in cui al ristorante non dovessero averlo. Giuro, lo avete visto su Instagram, l'ho pubblicato qualche settimana fa. Ma nel mio bagno il tabasco non ci è mai finito, mai. E non riesco neanche a pensare ad un motivo per cui della salsa piccante possa finire in bagno. O meglio, prima di conoscere questo caso non riuscivo a pensare ad un motivo per cui della salsa piccante possa finire in bagno. Ora, purtroppo, sì. E tra poco lo spiegherò anche a voi. Sempre nel bagno trovano a terra numerosi pannoloni, come quelli che aveva indosso Timothy. Tutti sporchi. Il bagno in generale era lercio. La doccia non aveva la tenda, cosa che, unita al fatto che la telecamera del bagno fosse direzionata proprio lì, nella doccia, diciamo che diventa un dettaglio piuttosto preoccupante. In cucina gli agenti notano che il frigo aveva dei lucchetti, così come anche tutti gli altri sportelli delle dispense. Erano tutti con dei lucchetti che Shanda aveva montato. E quando le chiedono il motivo di ciò, lei risponde che Timothy aveva il vizio di rubare sempre il cibo dal frigo o dalla dispensa. Cibo che non poteva mangiare e quindi i lucchetti servivano a proteggerlo. Erano lì per il suo bene. I sospetti degli agenti si concretizzano sempre di più, anche perché il corpo di Timothy, oltre ad essere ridotto letteralmente a pelle e ossa, secondo il medico legale, era troppo rigido per essere morto solamente un'ora prima. Shanda aveva detto di aver trovato Timothy, che era caduto dal letto, ma che stava bene, alle 5.30 e di averlo trovato senza vita alle 6.30, quando aveva chiamato i soccorsi. Ma secondo il medico legale, Timothy era morto molte ore prima. Shanda stava mentendo. L'autopsia non fa altro che confermare questi sospetti. La causa della morte di Timothy viene attribuita a disidratazione, malnutrizione e ipotermia. Pensate che al momento della sua morte, Timothy pesava solamente 30 kg ed era alto 1,72 m. Con quell'altezza, Timothy avrebbe dovuto pesare almeno il doppio. Almeno. Secondo il medico legale, Timothy non riceveva un pasto decente da gennaio del 2022, quindi da 6 mesi. Ovviamente la sua morte viene classificata come homicidio e di conseguenza sua madre, Shanda Van der Ark, viene immediatamente arrestata e accusata di homicidio e abuso su minori di primo grado. All right, you're going to be charged with child abuse right now. I believe it's the first or second degree, so it is a felony, so you won't be able to get out of jail until you see the judge until all the war and paperwork's down there, okay, which will probably be tomorrow. All right. I'm sorry. No, I'm the bearer of bad news right now. I'm sorry. Yeah, it's been a bad couple days. Yes, I'm not just broke. No, you're all right. I do have to handcuff you, but I'll do it in the front. My blood sugar crashes, I need that. Are you diabetic? I'm re-hidroglycemic. Okay, you take medication for that? No. A questo punto inizia una vera e propria indagine e i detective trovano subito dei messaggi, dei messaggi tra Shanda e Paul che rendono tutto molto chiaro. Questi messaggi dimostrano senza ombra di dubbio che Shanda e Paul, da quando Adam è andato via di casa, hanno sottoposto Timothy a delle vere e proprie torture che cercavano però di spacciare come punizioni. Shanda, con l'aiuto di Paul, puniva Timothy per qualsiasi cosa, facendo cose come privarlo di acqua e di cibo, immergerlo nell'acqua ghiacciata per ore, farlo rimanere in piedi con la faccia contro il muro per ore e ore e ore, a volte anche per tutta la notte, legarlo con le fascette e le manette che avevano trovato, privarlo del bagno quando gli serviva, motivo per cui era costretto a indossare quei pannoloni, e infine costringerlo a mangiare quella salsa piccante che avevano trovato in bagno. Che, tra l'altro, non era una salsa comune, cioè non era semplicemente del tabasco, come dicevo prima, perché il tabasco è piccante ma è tollerabile. No, questa è una salsa che si chiama Extreme Regret, che si può tradurre in rimorso estremo, della serie che ne mangi un po' e poi te ne penti subito per quanto brucia. È una salsa estremamente piccante, che Shanda usava come modo per punire il povero Timothy. C'è un messaggio in cui Shanda scrive a Paul Deve mangiare quattro fette di pane ricoperte di salsa piccante e poi può averne altre quattro senza, ma deve mangiare quelle con la salsa prima, poi metti un timer di 30 minuti prima di dargli le quattro fette senza. A volte pare che la salsa piccante gliela versassero direttamente in bocca, senza niente, e questo sempre come punizione per qualcosa. Le telecamere in giro per la casa invece servivano a monitorare Timothy in ogni momento. E sì, anche in bagno perché Timothy veniva cronometrato. Aveva esattamente un minuto per fare la pipì e cinque minuti per defecare e se ci metteva di più veniva punito. Shanda invece si giustifica dicendo che tutte quelle telecamere erano lì per due motivi. Il primo motivo è che quando suo figlio G era più piccolo aveva il vizio di spogliarsi nudo e di correre per casa e lei quindi aveva messo le telecamere per poter controllare che non lo facesse. Giustificazione che non ha nessun senso, ma va bene. E il secondo motivo sarebbe che praticamente queste telecamere avevano anche uno speaker integrato, quindi tu attraverso le telecamere potevi parlare da una stanza all'altra e Shanda sostiene che quando suo marito Adam viveva con loro, essendo sulla sedia a rotelle, parlava con loro attraverso le telecamere nel caso in cui avesse bisogno di qualcosa. Anche questa però è una balla. Shanda infatti pare che quelle telecamere le guardasse molto spesso anche mentre si trovava a lavoro e questo per monitorare Timothy in modo ossessivo e se vedeva qualcosa che non le piaceva allora parlava, cioè diceva a Paul perché poteva parlare dal suo telefono attraverso l'app di queste telecamere e in questo modo poteva dare istruzioni a Paul che in quel momento si trovava a casa su come punire Timothy e poi poteva godersi lo spettacolo comodamente dal suo cellulare. A volte con le fascette legava uno dei sensori di movimento alla vita di Timothy in modo che anche se si fosse solo mosso avrebbe fatto scattare l'allarme e di conseguenza sarebbe stato punito. A Timothy oltre al mangiare e al bere era proibito spesso anche di dormire. Infatti ci sono alcuni messaggi in cui Shanda scrive queste cose a Paul. Per favore assicurati di scendere regolarmente per controllare che Timothy non si addormenti. Forse dovremmo lasciare la luce accesa? In questo modo sarà più difficile addormentarsi. Sentiti libero di gettarli addosso dell'acqua ghiacciata. Onestamente non mi interessa se sei un po' brusco con lui. E non pensate che Timothy potesse stare a dormire o a non dormire nel suo letto nel letto a castello da dove Shanda diceva che fosse caduto. No! Timothy dormiva per terra rannicchiato dentro quello sgabuzzino da dove proveniva quell'insopportabile puzza. E l'allarme sulla porta di questo stanzino serviva perché ovviamente Timothy da lì non poteva mai uscire. Se fosse uscito sarebbe scattato l'allarme e lui sarebbe stato punito. Tra questi messaggi ne trovano uno che risale ad aprile 2022 in cui Paul informa Shanda che aveva scoperto che Timothy aveva rovistato nell'immondizia e aveva mangiato la crosta di un vecchio hamburger. E quando Shanda era tornata a casa per punirlo aveva ordinato a Paul di indurgli il vomito. E poi l'aveva fatto lei stessa gli aveva messo le dita in gola per... Avete capito? I detective trovano anche un messaggio da parte di Paul risalente al 13 giugno quindi a qualche settimana prima dalla morte di Timothy in cui il ragazzo avverte la madre del fatto che Timothy fosse troppo magro. Le scrive precisamente questo Timothy ha cercato di rubare del cibo io gli ho urlato addosso e lui è svenuto per un momento e poi ho visto che è pelle e ossa mamma penso che dovremmo effettivamente dargli qualcosa da mangiare. E le manda anche una foto che ovviamente non è stata resa pubblica ma si tratta comunque di una foto in cui si vedeva quanto Timothy fosse magro. E a questo messaggio Shanda risponde Ok, dagli del pane o del pane col burro d'arachidi e un po' d'acqua gli svenimenti sono probabilmente falsi ma ho capito cosa intendi. Gli svenimenti sono probabilmente falsi. Ha davvero scritto questo dopo non aver dato da mangiare ad un ragazzo di 15 anni per 6 mesi. Un'altra punizione che infliggevano a Timothy che emerge dai messaggi sono i bagni di ghiaccio. Shanda e Paul riempivano la vasca di acqua ghiacciata gli aggiungevano del ghiaccio e gli immergevano Timothy a volte lasciandolo lì per delle ore. Ora i detective leggono tutti questi messaggi e poi interrogano Paul e ovviamente gli chiedono chiarimenti. Paul ammette praticamente tutto da subito ma all'inizio dice che tutte le cose che lui e Shanda avevano fatto a Timothy le avevano fatte per il suo bene perché loro volevano il meglio per lui. Yes, we made sure that it was cleaned he had a mattress in there but then he decided to rip off the cover like a sort of plastic cover we'd put on there to keep it from getting smelly and yeah, disgusting. We wanted, we always wanted what's best for him. We wanted, we always wanted what's best for him. We wanted the best. Pensa se volevano the worst. Paul racconta anche che appunto per punire Timothy gli facevano questi bagni ghiacciati ma tenta di sminuire il tutto dicendo che il ghiaccio non era poi così tanto e l'acqua non era poi così fredda. When he's getting this ice bath, I know there's numerous of them, right? I mean, because I've read through the messages. Yes. How are you getting the ice? Like, where's it coming from? We have an ice machine upstairs. It's not allotted. It can barely create pennies. It's enough to make it a full-on... But it's a cold bath. Yeah. And you're putting ice in there? Like, one dump ice? One dump, yeah. Maybe that much? And then you're just trying cold water? Or what type of water? The water doesn't exactly feel cold, cold. It says there's a cold button, but it's basically sort of lukewarm-ish. How many times would you ask me that you guys gave cold baths as a product? For a napkin or whatever, for whatever reason? I think for punishments, it was... I don't exactly know the number, but it wasn't a lot. Are we talking like 5, 10, 20, every day, every other day? Any ideas? Five. Whose idea was to give them a cold bath as a punishment? It was my mother's. I wasn't sure if it would be a punishment effective or not. I don't know. E quando il detective gli chiede che cosa avesse fatto Timothy in quell'occasione per meritarsi il bagno ghiacciato, Paul risponde che aveva fatto i suoi bisogni nel letto. Ma il detective lo corregge. Gli dice che leggendo i messaggi tra lui e sua madre si capisce che Timothy non dormisse in un letto, ma per terra in quel minuscolo sgabuzzino. What did he do on that day and he signed a photo that made you have to give him a cold bath? I think it was if he not only peed but also pooped. And my mother wasn't too happy because it absolutely reeked. I mean, we talk about that. I understand he's been to the house and he gives a lot of messages. Yeah. Where did he sleep most of the night? In that closet? Because when did the bed time start happening? I don't know. But he's always been standing there. No, he didn't always. Okay. But the thing was the loft bed, if you've noticed, the screws and stuff, that was his doing. and we couldn't get safe way back. Quindi per farvela breve, Paul in questo interrogatorio ammette tutto. Ammette che lui e Shanda sottoponevano Timothy a quelle torture irripetibili per punirlo. Ammette di aver tenuto legato Timothy. Ammette di avergli messo le manette alle caviglie, ma di avergliele tolte dopo qualche settimana perché le sue caviglie si stavano gonfiando e loro non volevano che si gonfiassero perché volevano solo il meglio per lui. E da questo interrogatorio emerge anche un episodio veramente allucinante che risale al giorno prima dalla morte di Timothy e si pensa che sia stato proprio l'episodio decisivo che ha causato la sua morte. Cioè diciamo che è stata un po' la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Paul racconta che solo il giorno prima dalla morte di Timothy, quindi il 5 luglio, Shanda per messaggio aveva detto a Paul, come sempre, di andare a svegliare Timothy perché non poteva dormire e di fargli un bagno ghiacciato così che lei potesse vedere tutto dalle telecamere del suo cellulare mentre era a lavoro. Erano le due del pomeriggio a quel punto. Ma quando Paul è arrivato lì non è riuscito a svegliarlo. Timothy era sdraiato lì ma non rispondeva, non era cosciente. Shanda allora gli aveva scritto di trascinarlo fino alla vasca piena di acqua ghiacciata e di gettarglielo dentro perché con l'acqua ghiacciata si sarebbe svegliato. Ma neanche questo aveva funzionato. Timothy non si svegliava neanche immerso nell'acqua ghiacciata. Shanda allora aveva scritto a Paul di andare a prendere un pizza roll che sarebbe uno snack, una specie di voltino di pizza e gli aveva detto di sventolarglielo davanti alla faccia per vedere se Timothy stesse fingendo di non essere cosciente. Ma si era raccomandata con Paul di non farglielo mangiare per nessuna ragione. Sì perché dovete sapere che questa era una costante nei messaggi. Shanda era convinta che Timothy fingesse di avere tutti i problemi che aveva. Fingeva di essere autistico, fingeva di avere problemi motori e a quanto pare fingeva anche di essere sull'orlo di morire di fame secondo Shanda. Comunque Paul aveva eseguito gli ordini, aveva preso questo pizza roll e a quel punto Timothy si era effettivamente svegliato e aveva cercato di afferrare con le poche forze che aveva quel pizza roll al che Paul come ordinato da sua madre lo aveva allontanato e non glielo aveva lasciato mangiare. Purtroppo però il peggio deve ancora arrivare perché a quel punto non contenta Shanda aveva scritto a Paul un altro messaggio con scritto questo mi chiedo cosa si provi ad avere la salsa piccante nelle parti intime non sto dicendo di toccarlo lì assolutamente solo di versargliene qualche goccia là sotto non lo so Shanda perché non ci provi tu? Versati tu qualche goccia di salsa piccante nelle tue parti intime così ti togli questa impellente curiosità che sembri avere no? Paul fortunatamente a questa cosa aveva risposto forse per la prima volta in vita sua di no e non lo aveva fatto ma ha lasciato Timothy immerso nella vasca da bagno fino alle 6 di sera quando Shanda era tornata da lavoro a casa e a quel punto Shanda aveva accompagnato Paul a sua volta a lavoro e alle 11 e 30 di sera Shanda aveva mandato un messaggio a Paul dicendogli che aveva appena tirato fuori Timothy dalla vasca e lo aveva trascinato dentro lo sgabuzzino e lo aveva lasciato lì e guarda un po' la mattina alle 6 e 30 avevano chiamato il 911 dicendo che Timothy non respirava più chissà come mai questo tra l'altro spiegherebbe anche la morte per ipotermia Timothy era morto di fame di sete e di freddo per essere rimasto più di nove ore immerso in un bagno di acqua ghiacciata o comunque molto molto fredda e a questo punto amici dopo neanche una settimana dall'arresto di Shanda le autorità arrestano anche Paul accusandolo di abusi su minori veniamo al processo questo processo è forse uno dei più difficili da guardare ma allo stesso tempo uno dei più interessanti che abbia mai visto per via di una serie di cose che succedono ovviamente vi consiglio di guardarlo per intero se avete il tempo se capite l'inglese lo trovate interamente su youtube io dovrò per forza di cose riassumerlo ma è sicuramente molto interessante il modo in cui Shanda parla la sua arroganza la sua convinzione Shanda è sicura di poter manipolare tutti quelli che le stanno attorno è sinceramente convinta di poter usare la sua intelligenza perché non si può dire che non sia intelligente a prescindere dai suoi titoli di studio che come abbiamo visto più più volte spesso non sono sinonimo di intelligenza ma lei sicuramente lo è è intelligente e allo stesso tempo ha anche studiato ha studiato legge è un avvocato abilitato quindi sa cosa fa sa cosa dice sa come dirlo e questo sapendo che cosa ha fatto a Timothy fa imbestialire il processo comincia il 13 dicembre 2023 e pensate dura soltanto due giorni e si svolge nello stesso tribunale in cui Shanda lavorava il tribunale di Muskegon County ironia della sorte lei ovviamente a questo processo si dichiara non colpevole al processo presiede il giudice Matthew R. Kessel mentre l'avvocato della difesa è Frederick Johnson e quello dell'accusa è Matt Roberts dunque la sua difesa l'avvocato Johnson adotta una strategia curiosa ma non fantasiosa cioè secondo me l'avvocato poteva impegnarsi di più è una mia opinione perché la sua difesa è questa Shanda Van der Ark non sapeva cosa stesse facendo lei voleva solo proteggere Timothy non sapeva che le cose che ha fatto a Timothy avrebbero causato la sua morte cioè l'avvocato della difesa ha davvero provato a convincerci tutti che una donna così intelligente che tra l'altro non fa altro che ricordarlo a tutti quanto sia intelligente cioè Shanda come vi dicevo è molto consapevole di esserlo e si vede quindi l'avvocato vuole convincerci che una donna così intelligente non sapesse che dare che non dare da mangiare ad un adolescente per sei mesi o comunque dargli dei piccoli pezzettini di pane ogni tanto ricoperti di salsa piccante avrebbero portato alla sua morte davvero questa è la sua linea di difesa Shanda prova anche a giustificarsi diagnosticandosi da sola cose a caso per esempio dice di avere dei vuoti di memoria e di non ricordare tante cose e dice che in quel periodo era fuori di sé non ragionava bene e questo perché soffriva della sindrome da stress post-traumatica causata dall'ictus di suo marito Adam e dallo stress che insomma questo le aveva causato e dice anche di soffrire del disturbo dissociativo che ne è derivato da questo stress diagnosi che però si è fatta da sola sul momento è medico non lo sapevo l'avvocato Roberts l'avvocato dell'accusa infatti subito interviene obiettando che appunto non esisteva nessuna diagnosi che attestasse queste cose quindi Shanda non poteva affermare di non ricordare a causa di disturbi che non aveva poteva dire di non ricordare ma non poteva ovviamente inventarsi disturbi a caso l'accusa poi fa quello che nei processi americani si chiama cross examination il controesame in cui praticamente l'avvocato interroga il testimone in questo caso Shanda che sta testimoniando al suo stesso processo con il fine di mettere in discussione la testimonianza fornita quindi in questo caso quella secondo cui lei non sapeva cosa stesse facendo e avesse vuoti di memoria e che non volesse fare del male a Timothy ma solo proteggerlo da se stesso fondamentalmente l'avvocato quindi le chiede delle telecamere in giro per casa e lei gli ripete che le aveva installate solo perché quando suo figlio G era piccolo correva nudo in giro per la casa e lei non voleva non voleva che i suoi figli girassero nudi per casa e l'avvocato le chiede ah e come mai allora in questo messaggio qua tu scrivi a Paul che per punizione hai messo Timothy a pulire il garage nudo dalla vita in giù ma lei dice di non ricordarselo let's talk about the cameras then well I guess let me ask you this question so the motion sensor goes off the alarm goes off how is that a deterrent or how is that a punishment to Timothy that wasn't meant as a punishment it was to let us know so we could go make sure that he was you know he wasn't wandering around he wasn't getting into taking batteries apart and taking other messing with stuff that he shouldn't have been so you wanted to restrict his movements and you wanted to know if he moved out of the basement area whenever the motion sensors were on yes sir at least initially you put the camera in place in G's room to make sure that he wasn't running around without his clothes on right yes sir when he was a toddler he would strip down how is putting a camera in his room to show him running around restricting from doing that well it doesn't restrict it was to let us know that he was doing it and you have a problem with him running around he wasn't potty trained wasn't potty trained I see but otherwise if you're potty trained it's okay to have your children running around naked no no you wouldn't want to have a child running around your house naked would you no you wouldn't want G to see his brother running around naked would you no then I'm wondering why the text message that you sent to Paul about Timothy making a mess in the garage was that he had to clean the garage without anything on below the waste and then he could stand against the wall without anything below his waste I don't remember that sir I'm sorry you don't remember that Tiffany? no sir poi l'avvocato le chiede delle manette lei vi ricordate aveva detto che quelle manette erano state comprate da Paul per fare dei tiktok e le chiede le hai mai usate per legare Timothy? e lei risponde no e lui le dice ok leggimi per favore questo messaggio che hai mandato tu a Paul now Mr. Johnson asked you about the leg irons do you recall that? yes sir your testimony here today was that those were ordered by Paul and Paul would use those on legos correct? yes sir but to be clear your testimony is those were Paul's those were never used on Timothy right? as far as I know yes sir let's look at that top text message 5 4 6 0 top two text messages again the blue is you the wisely transaction is handcuffs and lead cups for Timothy from Amazon figured it would be okay to get those right away until we can talk about the sensors and stuff if not please say so we can cancel the order ok I don't remember that you don't remember that no sir I don't remember that ma ovviamente lei non ricorda neanche questo ed è curioso perché se vi andrete a guardare il processo vi accorgerete che Shanda ricorda tutto il resto tutto il resto nei dettagli a quanto pare ha dimenticato solo le parti che per lei sono sconvenienti o incriminanti lì la sua memoria fa le bizze le chiede poi delle fascette stessa cosa le chiede hai mai legato Timothy con delle fascette le risponde no ok per favore leggi questo messaggio che sempre tu hai inviato non ricorda non ricorda non ricorda quando era read. Do you remember hearing about a conversation? Did that make you stop and go, oh my goodness, we can't be putting Timothy in zip ties? Yes, I mean, that's what I thought here. Yes, sir. Sure, okay. Well, then this, if you care to read the bottom of 4227, that's Paul's message to you. Oh, this is from earlier. He just won't listen or does something I didn't tell him. He could, he just tried claiming his zip cuffs were too tight when I didn't even tighten them to where there's no room for his wrists. This is your response now? Yeah, leave them as they are and I will check them when I get home and you can tell him that and if he lied about that, he gets himself in even more trouble. Do you want me to keep going? No, that's fine. Leave them as they are and I will check them when I get home. You want to revise your earlier answer to the question when you said that you would have said, oh no, don't use zip cuffs on Timothy. I don't recall that sir, I'm sorry. Don't recall that either. No sir. Good. Ovviamente lei di nuovo afferma di non ricordare nulla e la stessa cosa succede anche quando l'avvocato le chiede della famigerata salsa piccante. L'avvocato poi le fa leggere anche quel messaggio di cui aveva parlato Paul durante l'interrogatorio, quello in cui Shanda gli chiedeva di mettere della salsa piccante sui genitali di Timothy. Ecco la sua reazione quando gliel'hanno fatto rileggere in aula. I wonder how it would feel to have that hot sauce on your private parts. I'm not saying touching there, not at all, but dripping a little bit there is horrible. Did you have to ask that question? I wouldn't think so, I don't remember that. I can't even imagine saying that. But you did. I know, but I can't even imagine it. About your child, right? Who at that point was in the middle of an ice bath, but it lasted at least two and a half hours at that point, right? What, are you asking if I said that? I'm asking you if you said that when your child was in an ice bath for two and a half hours at that point in time, because this is 425 in the afternoon and you're watching on the camera from work and texting with Paul about what he's supposed to be doing with him in the tub, right? Yeah, I wonder what hot sauce on your private parts would be like. I have no idea where it came from. I have no idea. Have you ever tried that hot sauce? No, I don't like food as spiciest as to me. Okay. About the hottest I can handle is jalapeno cheddar Cheetos. I'm with you there. I can't handle hot sauce either. Quindi, come al solito, lei non ricorda di aver mandato quei messaggi e, chiaramente, essendo un avvocato, sa bene che non può ammettere di aver fatto quelle cose, ma essendoci delle prove così schiaccianti, ovvero dei messaggi inviati da lei stessa, qual è l'unica cosa che puoi fare? Negare dicendo che, beh, non me lo ricordo. La parte peggiore di questo processo, però, è quando le mostrano le foto di Timothy, le foto del corpo emaciato del suo stesso figlio. Immagini forti che, ovviamente, io non inserirò, ma tranquilli perché non esistono, cioè non sono mai state rese pubbliche, quindi non rischiate neanche di imbattervici online. Ma Shanda conosce benissimo quel corpo emaciato. Primo, perché lo vedeva continuamente. Faceva a Timothy continuamente quei bagni ghiacciati e lo teneva costantemente senza vestiti, quindi non è che non lo avesse mai visto prima. E secondo, è stata proprio lei a ridurlo così. Eppure, quando l'avvocato le mostra quella foto, lei si gira, si nasconde sotto al bancone e vomita. Ma posso dirvi la mia umile opinione? Per me Shanda non vomita, ma fa finta. Secondo me fa finta. Comunque, proseguiamo e superiamo questa parte vomitevole, in tutti i sensi. Sempre su Shanda, al processo, emerge anche che la donna nascondesse Timothy da tutti, ovviamente. E praticamente c'era la nonna del piccolo G, la madre di suo marito, che ogni tanto andava a casa per prendere G e portarselo. E praticamente Shanda aveva trovato il modo di tracciare il cellulare della nonna, così che quando arrivava nei pressi di casa sua, lei faceva già uscire G, in modo che la nonna non dovesse mai entrare in casa, così che non rischiasse mai di vedere il povero Timothy ridotto in quel modo. Probabilmente questa nonna non sapeva neanche dell'esistenza di Timothy. Al processo, Paul testimonia e testimonia contro sua madre. Palesemente nella speranza di ricevere una pena ridotta, per comunque aver collaborato con le autorità e per aver detto le cose come stavano. Durante la sua testimonianza, lui praticamente sostiene di aver fatto tutto quello che ha fatto perché glielo aveva ordinato sua madre. Dice di essere sempre stato sotto il suo controllo e quindi in un certo senso si pone anche lui come vittima di sua madre. Ma esattamente come lei tenta di giustificarsi autodiagnosticandosi disturbi a caso. Tale madre, tale figlio. E dice le seguenti parole. Ma l'avvocato dell'accusa lo smonta immediatamente dicendogli che comunque lui era consapevole del fatto che Timothy stesse male, che Timothy fosse troppo magro. Era stato proprio lui a inviare quella foto a Shanda dicendole che dovevano dargli da mangiare, no? Quindi era cosciente che fosse tutto sbagliato. Paul lavorava in un fast food, una catena di nome Apple Bees, e l'avvocato gli chiede «Hai mai pensato di prendere del cibo da lì e di portarlo a tuo fratello? E tornando a casa da lavoro durante il tragitto dovevi passare di fronte a dei supermercati, a stazioni di servizio? Ti sei mai fermato a prendere, che ne so, una barretta di cioccolato per Timothy?» E infine gli fanno una domanda, una domanda molto precisa. Gli chiedono «Ma tu, amavi tuo fratello? Gli volevi bene?» E lui inaspettatamente risponde «Suppongo che non lo amassi abbastanza». «Durante il processo emergono anche nuovi elementi, proprio grazie alle telecamere che Shanda aveva piazzato in tutta la casa, perché grazie a loro hanno potuto riprodurre in aula l'audio di quello che è successo in quella casa nel momento in cui Shanda e Paul si erano resi conto che Timothy era morto e quello che si sono detti prima di chiamare la polizia. Quando Shanda si è resa conto che Timothy non respirava più, infatti ha prima chiesto a Paul di fargli la rianimazione e quando ha capito che ormai non c'era più niente da fare è andata nel panico. Ha detto a Paul di vestire Timothy e di metterlo nel letto per far credere alla polizia che sia sempre stato nel letto. E certo Shanda, non vogliamo mica che scoprono che in realtà dormiva aggrovigliato dentro ad uno stanzino, vero? Poi ha proprio detto a Paul che avrebbe mentito alla polizia e gli avrebbe detto che Timothy era così magro perché stava facendo lo sciopero della fame. Quindi questa è l'ennesima prova contro di loro. Il 15 dicembre 2023 la giuria dopo solo un'ora di deliberazione emette il verdetto colpevole. E la sentenza, amici, la sentenza è forse l'unica magra consolazione di tutto questo caso. Il giudice fa un discorso che è da fargli l'applauso alla fine e so che è lungo ma ve lo voglio leggere tutto. Non lo lascerò in lingua originale, non lo farò doppiare, ve lo voglio proprio leggere io. Voglio io avere questa piccola soddisfazione. Prima di tutto sono felice che oggi ci siano delle persone che rappresentano la parte di Timothy. Mi ha colpito vedere chi fosse qui per Timothy durante il processo e ho avuto paura che oggi non avremmo avuto nessuno qui a parlare per lui. E questo per me sarebbe stato molto triste. Triste e orribile. Quindi sono felice che due individui si siano presi il tempo per essere qui e per essere venuti dall'altra parte dello Stato. E nonostante la situazione orribile, questo mi fa sentire un po' meglio. Non molto, ma un pochino sì. Sapete, Mr. Johnson, l'avvocato della difesa, nella ringa finale di oggi ha fatto lo stesso discorso che ha fatto in quella d'apertura. Ovvero che quello che ha fatto Shanda è stata solamente una negligenza e che in realtà lei non sapesse che cosa stava facendo. Che stesse solo dando delle punizioni. Che stesse solo cercando di essere una brava madre. e che non si sia resa conto che Timothy fosse in condizioni così gravi. E io mi sono ritrovato quasi a crederci. E dopo, dopo il processo, mi sono seduto in macchina e ho cercato di capire. Ho cercato di capire perché mi sentissi in quel modo. E quello che ho capito è che volevo sentirmi in quel modo. Volevo crederci perché non volevo accettare la realtà dei fatti. E la realtà dei fatti è che questa persona, Miss Van der Ark, tu hai intenzionalmente fatto quello che hai fatto. Non è stata negligenza. Non è stato un non capire cosa stessi facendo. Tu hai fatto quelle cose intenzionalmente con un fine. E penso che su una cosa la difesa abbia ragione. Non penso che tu avessi intenzione di uccidere Timothy. Perché altrimenti avresti perso l'unica persona che volevi torturare. Senza di lui non avresti avuto più nessuno da torturare. Quindi io non penso che tu intendessi ucciderlo. Io penso che tu volessi continuare a torturarlo per quanto più tempo possibile. Il perché? Non lo so. Ma con tutte le informazioni che ho davanti a me, e mi sono seduto e ho davvero pensato a questo, e ho letto e riletto i miei appunti del processo, e tutto dimostra che non si tratta di negligenza. Questa non eri tu che non capivi cosa stessi facendo. Ho letto ogni singolo messaggio per capire cosa avessi nella testa. E quello che mi è stato assolutamente chiaro è che sapevi esattamente cosa stavi facendo. Appena prima che la polizia arrivasse a casa tua, hai escogitato questo piano, questa bugia di Timothy che stava facendo lo sciopero della fame, e che si trovava nel suo letto, e che tu eri andata a controllarlo, e hai coinvolto anche Paul in questo. Gli avete messo dei vestiti per essere sicuri che non si vedesse la sua magrezza, per poter dire che fosse in realtà lo stesso Timothy ad averla nascosta a voi, nonostante tu sapessi perfettamente quanto magro fosse, perché avevi ricevuto le sue foto da Paul pochi giorni prima, e sapevi quanto fossero gravi le sue condizioni. Tu hai testimoniato definendoti altamente intelligente, e penso che questa sia l'unica cosa vera che tu abbia detto nella tua testimonianza. Tu sei infatti molto fiera della tua intelligenza, non hai fatto altro che vantartene e vantartene, e anche tutti i tuoi sforzi di nascondere questo ragazzino da tutti. Tu l'hai nascosto dai nonni, e ti assicuravi che neanche l'altro tuo figlio, G, lo vedesse mai. Tutti quei messaggi che hai inviato dimostrano la tua malafede. Tu non volevi che nessuno lo vedesse in quelle condizioni. Ho capito che io non volevo credere a queste cose, perché non riesco a capirle, non riesco a capire. Ho cercato per tutta la durata di questo caso a capire come qualcuno possa fare delle cose così orribili, non solo ad un altro essere umano, ma al proprio stesso figlio. Tu hai intenzionalmente e sistematicamente torturato il tuo stesso figlio. Chiamiamole cose con loro nome. Queste sono torture, queste non sono punizioni. Non stavi cercando di moderare il suo comportamento. Tu lo torturavi, lo monitoravi in modo ossessivo. Ho guardato ognuno dei tuoi messaggi. Il pane con la salsa piccante, il farlo correre su e giù per le scale, il privarlo di cibo e del sonno, i bagni di ghiaccio, il fargli vomitare il cibo e, oh, ci sono altre due cose che ho letto nei messaggi e che non sono mai venute fuori durante il processo. In un messaggio hai scritto di volerlo bendare, di volerlo privare del suo senso della vista come punizione. E poi, l'ultima cosa che mi ha completamente sconvolto è che hai scritto di volergli dare dell'acqua col sale da bere come punizione. Ma poi hai cambiato idea e hai scritto in un messaggio a Paul, «Hey, di a Timothy che non gli darò più l'acqua salata come punizione». Ma il tuo ragionamento non è stato «Ok, non gli darò più l'acqua salata perché gli fa male e potrebbe ucciderlo». No. Hai deciso di non dargliela più perché altrimenti avrebbe avuto una scusa per stare seduto sul gabinetto qualche minuto, perché l'acqua salata gli faceva venire la diarrea. Questo è stato il motivo. Non che gli avrebbe fatto del male, ma che avrebbe avuto una scusa per sedersi. E sai, verso la fine dei messaggi, tu e Paul parlate del fatto di non volere che Timothy l'abbia vinta. Non volevate che lui vincesse. Io non ho permesso che venissero mostrate le foto di Timothy quando è morto, perché non volevo che la gente lo ricordasse in quel modo. Di tutte le cose che gli hai portato via, non volevo che gli portassi via anche la dignità. Ho anche pensato «Sono un giudice, ma sono anche un essere umano, e non so come correggere questi sbagli. Posso farlo soltanto emanando una sentenza che fondamentalmente ti privi della tua libertà». E quindi ho pensato «Che cosa faccio?» Io scelgo di non ricordare tuo figlio con le sembianze di una vittima dell'Olocausto. Io scelgo di ricordarlo così. E guarda, non riesci neanche a guardarlo. Questo era Timothy, un bambino bellissimo con tanta vita negli occhi. E tu gliel'hai portata via questa cosa. Io scelgo di ricordarlo come un bambino felice, con una vita. Questa è la foto che voglio che la gente ricordi. Tu hai portato via questo da lui. Tu gliel'hai portato via. Per quale ragione poi? La difesa ha ragione. C'è qualcosa di rotto in te. Non so che cosa sia, ma non cambia quello che hai fatto. Quindi, a parte ricordare Timothy in questo modo, io non lascerò più che tu ti nasconda nelle tenebre. La gente deve sapere cosa hai fatto. La gente ormai sa cosa hai fatto. Non potrai più nasconderti. E sai un'altra cosa? Timothy ha vinto. Ha vinto perché ora sappiamo che cosa tu gli hai fatto. Non è più un segreto ormai. Sappiamo chi sei. E questo è il modo in cui onorerò la sua memoria. Tu non hai vinto. Perché grazie a Dio la giustizia, in questo caso, è prevalsa. Non riesco neanche a pensare a cosa sarebbe successo se tu fossi riuscita a rianimarlo quel giorno. A quest'ora starebbe ancora soffrendo. Quindi, se c'è qualcosa di cui sono grato, è che Timothy è passato a miglior vita, così che tu non possa continuare a torturarlo. La sentenza di questa corte per l'accusa di abuso su minori è di un minimo di 50 anni fino ad un massimo di 100 anni in prigione, mentre per l'accusa di un milio la pena è l'ergastolo, senza possibilità di libertà condizionale. Ditemi se non è la sentenza più soddisfacente che abbiate mai sentito. Per quanto riguarda Paul, invece, la sua sentenza è avvenuta davvero di recente, a fine febbraio 2024, quindi un mese e mezzo fa, e viene anche lui giudicato colpevole e condannato da un minimo di 30 anni ad un massimo di 100 anni. E la cosa assurda è che quando Paul sente queste parole, mentre il giudice leggeva la sentenza, anche lui ha avuto i conati di vomito. Di nuovo, tale madre, tale figlio. Paul è stato anche periziato da uno psichiatra, perché la corte aveva il dubbio che anche lui fosse autistico o che avesse qualche disturbo mentale mai diagnosticato, ma lo psichiatra ha determinato che no. Paul Ferguson non ha nessuna disabilità intellettuale, queste sono state le sue parole, e attribuisce i suoi comportamenti, i suoi movimenti, il modo in cui si presenta alla mancanza di socializzazione e alla normalizzazione di dinamiche ed esperienze anormali e alle scarse abitudini relazionali. Anche qui la sentenza è stata proclamata dallo stesso giudice e anche qui voglio leggervela. Edo metterà anche il video di sfondo del giudice e di Paul, mentre il giudice legge la sentenza, ma tranquilli per la parte dei conati, perché non si vede veramente nulla. In tutti questi resoconti delle indagini c'è la prova che Mr. Ferguson aveva già bullizzato il suo fratellino in passato. C'è una dichiarazione della sua sorellastra che è avvenuta prima che lei conoscesse i dettagli di quello che Paul Ferguson e sua madre hanno fatto a Timothy e lei ha dichiarato alla polizia che Paul è il più grande bullo che lei abbia mai incontrato e provava sincera gioia nel tormentare il piccolo Timothy ogni volta che ne aveva l'occasione. Questa è una persona che senza neanche sapere i dettagli ha dichiarato questo. In uno degli interrogatori, Paul Ferguson ammette che a lui piaceva essere lodato da Shanda e gli piaceva avere il controllo su Timothy e ammette che avere il potere su qualcuno lo faceva sentire bene. E poi, sempre nell'interrogatorio, gli è stato chiesto se si era mai vergognato mentre abusava del fratellino e lui ha risposto di no. Gli è stato chiesto se riconoscesse che le sue azioni fossero sbagliate al tempo e lui ha risposto di no. Poi in un'occasione si è anche premurato di mandare a Shanda una foto per mostrarle quanto fosse Magro Timothy e quando gli è stato chiesto il perché lui ha risposto che lo ha fatto perché era preoccupato. Quando gli è stato chiesto di cosa fosse preoccupato lui ha risposto che era preoccupato per suo fratello perché non c'era più niente, se non ossa. Gli è stato chiesto se al tempo avesse mai pensato che questo comportamento abusante fosse sbagliato e lui ha risposto questo pensiero non ha neanche mai sfiorato la mia mente. Quindi la corte legge queste cose e pensa certamente di avere a che fare con una persona che è predisposta ad essere abusante con suo fratello. Ora, io non ho nessun dubbio sul fatto che Paul Ferguson a sua volta sia vittima di anni e anni e anni di trascuratezza e abusi da parte di sua madre. Non ho nessun dubbio su questo. Ma alla corte verrebbe quindi chiesto di essenzialmente ignorare le decisioni prese da Paul Ferguson e il suo comportamento per questo motivo e di, in qualche modo, minimizzare quello che lui ha fatto in questo caso. E se la corte ragionasse secondo questi standard, penso che saremmo in un bel guaio perché qualsiasi imputato che arriva davanti questa corte ha un'orribile storia alle spalle. Oserei dire che quello è proprio il motivo per cui arrivano qui. Le persone che hanno dei genitori di supporto e a cui le cose vanno bene generalmente non arrivano qui. Anche se non è sempre così. Ma credimi, ci sono tantissimi interventi e tutti hanno una storia alle spalle. E io ho cercato di capire se questo caso è una conseguenza di tua madre. E quello che ho capito è che non lo è. Paul Ferguson sta cercando di passare la colpa a sua madre e sta cercando di dire che se non fosse stato per lei lui non avrebbe mai fatto quello che ha fatto. Al processo ho sentito lui che diceva soltanto è stata lei che me lo ha ordinato. È stato un suo ordine, un suo ordine, un suo ordine. E se quello fosse stato un incidente isolato forse la corte avrebbe creduto a questa cosa. Ma qui abbiamo un individuo che è stato in una casa per sei mesi e ha intenzionalmente torturato un'altra persona e che non è preoccupato di cosa dire a sua madre perché ha avuto l'abilità di disobbedire a sua madre, di ribellarsi a sua madre e lo dimostra il fatto che al processo ha detto più volte di aver dato del cibo in più a Timothy ogni tanto e di aver mandato quella foto a sua madre dicendogli che era troppo magro e che dovevano dargli da mangiare. Non eri preoccupato che tua madre si arrabbiasse eppure gli hai comunque dato del cibo in più quindi eri capace di disobbedire a tua madre. Quindi questo mi dice che è soltanto una strategia di Paul Ferguson che ha voluto manipolare la storia per dare tutta la colpa a sua madre. Hai persino detto di avere la sindrome di Stoccolma? No. La verità è che abbiamo due individui che mancano di empatia e di emozioni e il fattore scatenante che ha dato il via agli abusi è stato l'allontanamento del marito di Shanda. Una volta che lui è andato via questi due individui sono stati liberi di torturare qualcuno e lo hanno fatto. Questa corte è preoccupata del fatto che Paul Ferguson non trovi l'aiuto che gli serve in prigione. Penso che lui sia ad un passo dal diventare uno psicopatico come sua madre e la corte è preoccupata che lui rappresenti un pericolo per il pubblico se venisse rilasciato. Paul Ferguson penso che tu sia un prodotto dell'ambiente che ti ha circondato ma non credo che tu sia dispiaciuto non lo credo non credo che tu abbia empatia non penso proprio che tu abbia emozioni e questo è quello che spaventa la corte e questo è quello che spaventa me. Penso che tu sia dispiaciuto di essere qui penso che tu sia dispiaciuto di essere stato preso penso anche che tu davvero non volessi che Timoti morisse proprio come tua madre ma solo perché in questo modo tu saresti stato preso e non avresti avuto più nessuno da torturare. Quindi a seguito di tutto questo la sentenza della corte è che tu passi da 30 anni a 100 anni in prigione con uno sconto di 592 giorni che hai già passato in prigione. Ovviamente la domanda che penso tutti ci poniamo in questo caso è ma perché? Perché Shanda ha voluto accanirsi sul povero Timoti? Che cosa? Perché? Ebbene ovviamente non lo sappiamo e possiamo solo speculare che Shanda sia una satica una sociopatica o una psicopatica come ha detto il giudice o l'incarnazione del diavolo ma c'è un dettaglio del suo passato della sua infanzia che ho trovato incredibilmente interessante sentite qua quando a 6 anni è stata messa in orfanotrofio con sua sorella Paige per due anni vi ricordate? Ebbene Paige dopo tutta questa storia si è fatta avanti e ha raccontato che in quell'orfanotrofio lei e Shanda hanno subito moltissimi abusi venivano punite per qualsiasi cosa e alcune delle punizioni erano proprio il privarle di cibo e di acqua per lunghi periodi di tempo e l'immergerle in vasche piene di acqua ghiacciata notate delle similarità che poi per carità neanche questo spiega gli orrori compiuti da Shanda perché se ci pensate sua sorella ha subito le stesse identiche cose e non mi risulta che abbia mai torturato nessuno quindi non lo so è una di quelle cose che non ci potremmo mai spiegare al 100% per il video di oggi comunque è tutto fatemi sapere se lo conoscevate già fatemelo sapere nei commenti ma non dimenticate di essere gentili con me e con gli altri detto questo amici come al solito io vi ringrazio per aver passato il vostro tempo con me anche oggi e ci rivediamo al prossimo video ciao ciao ciao